Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi mangerò delle polpette al sugo con mozzarella ultra filante e speck non vedo l'ora di iniziare, guardate queste polpette, sembrano davvero molto appetitose inizio col mangiare lo speck c'è una cosa molto bella, però è l'ora di un mato, è l'ora di formare un'ora di fai di fai che di fai, non so se fosse un bel sienico, è l'ora di fai, non so se fosse un'ora di fai di fai che cosa mi fa, non so se fosse un'ora di fai, non so se fosse un'ora di fai Grazie per la visione! Sono buonissime, io le adoro! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!